Ciao a tutti, siamo qui alla fiera Outdoor 2013 per presentarvi il nuovo marchio Rock Slave by Ferrino, prodotto ideato per i boulderisti dal pioniere del bouldering italiano Marzionardi. La collezione si divide in pantaloni, t-shirt, felpe e berrettini, accessori vari, le t-shirt sono in cotone organico, cotone anche per le felpe, abbiamo dei pantaloni sempre in cotone stretch, pinocchietto uomo e donna, dei jeans stretch e delle simpatiche gonnelline con all'interno il pantaloncino.